buonasera a tutti eccoci qua benvenuti a questa prima puntata se vogliamo sì la prima puntata di storia videoludica è una roba è una roba che qui lavoro da un po spero vi piaccia non credo che riusciremo a finire tutto il racconto in un'oretta un retto un'oretta è qualcosa anche perché magari voglio lasciarmi una parte finale o per una chiacchiera assieme o magari possiamo pensare di giocare a qualche vecchio titolo amica che magari all'inizio di cui la parte iniziale della della storia è più legata all'hardware perché comunque come vedremo i videogiochi stranamente nella storia dell'amica non hanno una parte centrale insomma nella sua nei suoi primi anni mi scuserete se all'inizio magari non interagirò molto con la chat voi scrivete non vi preoccupate continuate a scrivere fate preparate le vostre domande se avete delle domande insomma non vi preoccupate perché ovviamente all'inizio cercherò un po di fare una sorta di lezione poi magari nella seconda parte della serata passiamo più alla chiacchiera più al commento più al al ricordo e così via che perché insomma con la miga sono sono senza dubbio estremamente estremamente legato direi che comunque se vogliamo a parte mi sto accecando col faretto un attimo solo ecco meglio perché stavo veramente per darmi fuoco alle alle retine comunque dicevo la storia della miga è una storia è una storia molto interessante quindi direi di di cominciare allora la storia della miga inizia molto prima anche soltanto che che appunto che questa motherboard che vedete qua della miga 500 diciamo fosse fosse creato è una storia è una storia ricca di incroci ricca di grandissimi errori anche per quanto mi riguarda errori progettuali anche ma soprattutto errori commerciali litigi è una storia che inizia dall'atari e finisce con gente che dà fuoco ai manichini con le figi del del CEO insomma degli amministratori delegati è una storia veramente veramente assurda e chissà come sarebbe andata la storia dei videogiochi la storia dell'informatica se si fossero fatte delle scelte delle scelte differenti però questa è una cosa appunto che magari potete potremmo riflettere nella seconda parte appunto quello che possiamo iniziare a raccontare che diciamo nei primi anni 70 come poi ben sapete questo signore qua che vedete anni 70 atari è in fortissima espansione l'uomo che vedete appoggiato al centro della dell'immagine accanto al cabinato di pong è il buon Nolan Bushnell Nolan Bushnell che qualche anno prima è rimasto impressionato da space war dopo averlo visto in nelle università americane questa magari un'altra storia che vi racconterò è rimasto comunque impressionato da ciò che vedeva nel collo eco vision comunque questo momento sta facendo un botto di soldi con i cabinati cabinati che ha piazzato ovunque veramente in tutto in tutta l'america e anche fuori e pensa che comunque sia il momento di fare qualcosa che sia meglio del collo eco vision che ovvero di fare una console casalinga con delle cartucce intercambiabili e quindi comincia a pensare al progetto che ovviamente sarà sarà l'atari è una storia appunto che qui è estremamente ingarbugliata quella dell'atari quello che possiamo dire all'inizio è che l'atari prima diciamo di uscire prima di diventare quello che poi è diventato quando era soltanto ancora un prototipo era più o meno così l'atari 2006 l'atari vcs prima di venire compattato all'interno di una di uno scatolotto in finta raidica è più o meno questo è un prototipo conservato in un museo e insomma diciamo che è una roba abbastanza differente da quella che poi verrà ovviamente commercializzata la cosa interessante che appunto in quegli anni serviva qualcuno che fosse particolarmente bravo nel miniaturizzare i componenti nel lavorare sui primi processori e la persona di cui atari in quegli anni ha bisogno e questo signore qua che vedete poi ritratto più avanti quando diciamo era già lavorava già poi all'amica ed è il signor j j glen miner che nel 74 entra in atari è una persona estremamente portata per lavorare sui circuiti integrati lavorerà ovviamente al vcs al 2006 comincia a fare delle cose importanti per atari la cosa più importante che lui farà per atari in quel periodo sarà lavorare non mi ne vuole cuffie perché tanto non ne ho bisogno in effetti sarà lavorare alla cosiddetta tia la television interface interface adapter cosa serviva l'interface fondamentalmente lui prende tutta quella serie di cavi di cavoni che avete visto riesce a miniaturizzarli in un componente molto più piccolo che poi sarà l'interfaccia dell'atari 2006 ovvero quello che permetterà il collegamento fra l'atari la televisione lui lavorerà poi anche all'atari 800 al 400 insomma sono anni in cui atari sta cominciando a concludere il progetto ma prima di arrivare a questo livello a queste pubblicità che poi arriveranno anche da noi come vedete sono le pubblicità della concessionaria italiana la melchioni che all'epoca appunto poteva vendere sul territorio italiano l'atari prima di arrivare a questo punto atari si rende conto che per poter concludere lo sviluppo della console avere la potenza necessaria per gestire sia la distribuzione sia la campagna marketing sia tutto quello che c'è dietro ha bisogno di un gruppo grosso ed è a questo punto che atari entra nell'orbita della warner nel 76 nel 76 entra l'orbita della warner uscirà poi nel 77 l'atari 2006 ma con la warner arriva questo signore qua questo signore qua a cui da un certo punto di vista dobbiamo molto però chissà come sarebbe andata appunto la storia del settore se non ci fosse stato questo signore qua è rei cassar rei cassar che l'uomo se vogliamo anche in parte responsabile dell'accelerata gestione atari che poi porterà alla alla crack dell'83 il famigerato crack che si porterà dietro buona parte del settore soprattutto negli stati uniti da noi in fondo questa cosa era molto meno molto meno sentita però ecco rei cassar arriva in quegli anni e comincia a far arrabbiare fondamentalmente tutta tutta la di tutto il mondo dell'atari tutto atari perché è il primo caso veramente in cui abbiamo atari venere gestito da una parte da un gruppo di ingegneri persone geniali appunto come come miner come tanta altra gente che ci lavorava come gli sviluppatori poi su come era l'atari in quegli anni magari se ne potrà parlare più avanti era un posto veramente assurdo con gente che si faceva le canne mentre mentre faceva il coding ragazze cose era un posto un po strano diciamo figlio un po della cultura dell'epoca fatto sta che cassar fa talmente arrabbiare bush nel che l'anno dopo lui un anno prima che esca veramente il tutto c'è della tale lui se ne va poi dice non si sa se lui se ne va o lo cacciano fatto sta che cassar comunque da quel momento gestisce atari fondamentalmente da solo e la gestisce fondamentalmente disprezzandosi a vicenda amabilmente con con tutta la parte degli sviluppatori che lui definiva appunto delle prime donne high strong prima donna vedete questa è proprio una maglietta che venne esposta da alan alcorn dei principali sviluppatori sono delle persone che lavorarono al a tutta la tari fatto sta che quel periodo è abbastanza folle perché che succede la cosa sud è che cassar che arrivava ad un'azienda che si chiamava burlington lui fondamentalmente lavorava nel settore dei tessuti tant'è che in azienda cominciano a definirlo con questo romignolo di lo zar dei tovaglioli che è una roba abbastanza buffa fondamentalmente quindi cosa fa lui avendo per nel primo anno di uscita della tari fa questa mossa veramente infame nel 79 cassar si rifiuta prima di tutto di corrispondere le royalt e gli sviluppatori in quegli anni gli sviluppatori venivano trattati veramente forse peggio che oggi non gli veniva neanche riconoscito spesso il nome sul gioco per evitare che la concorrenza li rubasse tant'è che il famoso easter egg nato da in adventure nasce proprio per come come gesto di ribellione verso questo silenzio totale che c'era nei confronti degli sviluppatori poi non solo cosa fa a quel punto praticamente lui fa corrispondere tutti i costi di sviluppo li fa ricadere nel primo anno di produzione fondamentalmente rosicchiando gran parte degli incassi enormi che la tari aveva fatto e evitando così di di corrispondere anche il bonus l'anno successivo agli sviluppatori e fondamentalmente questo fa arrabbiare tantissime persone all'interno di atari molti se ne vanno in particolare sono quattro persone che se ne vanno che sono importanti per il futuro di questa storia queste persone sono david crane alan miller bob whitehead e larry caplan queste quattro persone poi fonderanno eccole qua fonderanno il primo sviluppatore third party di sempre ovvero activision queste persone fondano activision quindi hanno comunque un successo con i loro giochi si presentano in maniera differente riescono in qualche modo a scardinare determinati meccanismi faranno molti soldi comunque facendo facendo roba per l'atari nel senso alla fine cioè i principali giochi appunto pitfall ne abbiamo parlato l'altro giorno quando abbiamo sfogliato il l'atlante divisivo diciamo dei giochi atari di bitmap bitmap books loro veramente faranno la storia dell'atari la storia dei videogiochi e nel frattempo cosa succede se il signor miner nel frattempo ancora lì è ancora lì fa i suoi chip però anche lui un po un po si sta rompendo le scatole perché morde il freno la gestione cassar era estremamente riluttante a investire su qualcosa di nuovo perché fondamentalmente funzionava l'atari continuava a vendere saranno poi motivi che porteranno appunto al famigerato crack lui pensava che comunque fosse meglio vendere hardware vecchio che costava meno che investire tanto nella ricerca e nello sviluppo quindi va bene così ma chi se ne frega ma perché dobbiamo andare avanti e questo fa un po mordere al freno appunto a miner miner perché miner vuole lavorare con questo lui vuole lavorare con il motorora il chip motorora 6800 vuole fare cose fighe con questo chip perché è il chip che ha comunque la apple 2 è il chip che hanno i computer adesso che stanno uscendo che permette un sacco di cose in più e questo un po lo fa arrabbiare quindi a un certo punto cosa fa lui prende e se ne va e va a lavorare per un po di tempo in un'azienda che fondamentalmente fa fa pacemaker si chiama zimast o zimast come che dir si voglia ed è qua ed è qua che si unisce con con caplan perché che succede a un certo punto non è ben chiaro chi abbia contattato chi perché anche qui se si vanno a vedere le varie fonti su cui sono andata a ricercare questa storia i libri le interviste la storia per la situazione è un po confusa da una parte c'è caplan che dice di aver tirato dentro ma da una parte c'è miner di di che dice io avevo alle mie spalle comunque la mia boss della zimas che volendo conoscevano degli investitori tra cui un magnate del petrolio e dei dentisti texani poi pensate sta scena del gruppo dentisti texani che si mette a investire nel settore dei videogiochi fatto sta che la cosa comunque si unisce anche perché in quel periodo caplan cosa ha fatto caplan è stato al cs di recente e al cs ha visto per la prima volta un primo abbozzo di futuro perché sarà il cs in cui presenteranno per la prima volta il ness quindi lui ha visto che il mondo dei videogiochi sta andando oltre il tonfone che sta avendo in quel periodo il settore è un po un po è alle porte ecco quindi dice no aspetta un attimo cambiamo un attimo la seguitiamo un po come sta andando la situazione fatto sta che nell'ottantadue a santa clara nasce la high toro nome scelto perché aveva questo mix miscuglio se vogliamo tra la parola high tech e la parola proprio toro cioè la tecchiana roba molto texana comunque a santa clara in texas all'interno dell'azienda il ceo sarà dave morse dave morse è un nome comunque che arriva dalla tonka l'azienda di giocattoli tonka che in futuro lavorerà a una console portatile che probabilmente conoscete perché si chiama la epix lavorare la epix lavorare anche al links l'atari links più avanti lavorare un po a tutta una serie di queste cose qui cosa succede a questo punto l'i toro comincia a una strategia molto semplice l'i toro da una parte ci sarà kaplan che si occuperà dello sviluppo dei videogiochi comunque alle spalle c'è activision quindi insomma la situazione mi sembra abbastanza gestibile pensano no e dall'altra parte ci sarà comunque miner e la sua incredibile capacità di creare e di assemblare circuiti che si occuperà dell'hardware la situazione è abbastanza è abbastanza facile no voglio dire tutto molto semplice no perché a un certo punto non si sa come mai pare che ci sia messo nel mezzo bush nel non si è capito bene perché fatto sta che kaplan se ne va lui invece di restare lì e ancora prima che le cose debbano iniziare veramente kaplan se ne va perché decide no ho cambiato idea siete troppo lenti una situazione secondo me non si sta muovendo alla giusta velocità quindi io me ne vado quindi lascia con la pagliuzza corta dave morse e miner che a questo punto in qualche maniera devono andare avanti succede che comunque perché gli investitori che soldi ce l'hanno messi i famosi dentisti e i famosi magneti texani i soldi li rivogliono devono investire quindi che succede la itoro in qualche modo si divide in due rami da una parte ci sarà appunto la reazione di un nuovo computer di cui ancora non sappiamo niente e mentre dall'altra ci sarà un'azienda un po più conservativa che produrrà e creerà periferiche e prodotti per le console esistenti per l'atari e per magari per tutti gli altri personal computer che in quel momento sono sono fuori nel frattempo però che succede succede che lei toro deve cambiare nome e deve cambiare nome perché si scopre che c'è un'azienda giapponese di taglia erba che c'è un nome identico allora gli morsichi viene in mente sempre un nome vagamente ispanico che amica che vuole letteralmente dire amica no l'amica per lavorare per giocare insomma un compagno di gioco una qualcuno che ti sta al tuo fianco che non ti tradisce come ha fatto per esempio kaplan inoltre c'è anche questa cosa bella che amiga nell'elenco telefonico veniva prima di apple e veniva prima di atari quindi insomma il nome il nome va bene così il nome funziona detto questo cosa succede che cominciano a produrre delle cose ci sono le primi prodotte a marchio amiga il primo prodotto a marchio amiga che in un certo modo avrà poi un suo ritorno nella storia è la joyboard la joyboard è l'antesignana della balance board di nintendo cioè fondamentalmente è esattamente questo prodotto qua vengono fatti alcuni giochi uno mi sembra sia un simulatore di sci ti permette di andare a destra a sinistra ti permette di comandare un po dei giochi però molto semplici non vi aspettate grandi cose però comunque interessante perché la joyboard in qualche modo è legata al mondo della miga perché perché quando durante lo sviluppo della miga durante lo sviluppo dei primi processori dell'hardware amiga iniziale quando potete immaginare quante volte hanno avuto dei problemi crash fusioni cose che non funzionavano rotture per calmarsi miner e gli altri sviluppatori fanno il gioco di stare in bilico esattamente sulla balance board su questa joyboard evitando appunto di una sorta di esercizio di meditazione no è una sorta di piccolo esercizio di meditazione che loro chiamano in un modo che non potranno farvi venire in mente qualche cosa per loro questo esercizio si chiama guru meditation guru meditation come sa chiunque abbia mai avuto un problema con l'amica è il messaggio d'errore che ti succede quando non ti legge il disco quando c'è qualche problema e ti appare un'immaginetta una scritta rossa su sfondo nero che ricorda un po la joyboard no ecco la guru meditation il nome guru meditation nasce quando loro erano arrabbiati perché non gli stava funzionando qualcosa e si calmavano giocando con la joyboard che in qualche maniera funzionava ora finalmente si entra un po nella produzione del dell'amica perché comunque miner ha un'idea in mente e quest'idea la vedete in questi primi accrocchi questo è come si presentava l'amica prima di essere l'amica l'amica mille ovvero il primo amiga il piano di miner è una cosa abbastanza avveniristica per quel periodo la sua idea è produrre una macchina che sia modulare in cui c'è una versione base che magari poco costosa che magari puoi dare agli studenti puoi dare alle persone che vogliono un computer casalingo ma non non possono certo permettersi delle piccole aziende piccoli professionisti e poi un computer più grande espandibile ovviamente molto più costoso che può essere dato alle aziende di alto profilo e chiunque insomma ne abbia bisogno non è non vuole essere una cosa particolare pensata per il pubblico più piccolo è una roba quindi grande una roba grande un prodotto grande è un prodotto più piccolo per adesso quest'idea è soltanto nella sua testa però quest'idea e poi diventerà questo quello che vedete qui davanti ha già un nome un nome che deriva dall'usanza perdonatemi degli sviluppatori atari di battezzare i progetti e l'hardware in sviluppo con il nome delle proprie compagne delle proprie fidanzate i maligni dicono con i nomi anche delle segretarie carine che si portavano a letto fatto sta che quella che vedete qui davanti a voi è la prima versione di lorraine lorraine che è il nome di produzione del della prima miga della miga mille il prototipo di lorraine che qui vedete una versione un attimino ridotta è un prototipo molto interessante perché l'idea è quella di creare un computer in cui il carico di lavoro sia un attimo ripartito tra varie componenti onde evitare che il motorola 6800 impazzisca e non riesca a gestire la situazione e come succede lorraine è fatto così c'è questo in questo schema forse la parte un po più tecnica c'è il chip motorola da 6800 che viene alleggerito nel lavoro da tre componenti una si chiama agnes e controlla gli accessi alla memoria sincronizza tutto con l'uscita grafica si occupa di queste parti qua poi c'è Daphne che poi si chiamerà anche Denise che gestisce appunto la parte più grafica la parte video da tutta quella parte la e infine c'è Portia o che poi verrà chiamata anche Paula che come potete immaginare Portia Port gestisce tutta appunto la gestione delle porte audio delle porte di lato soprattutto ma anche le porte parallele di collegamento e così via c'è un'altra funzione molto importante molto io non sono un tecnico però insomma qualche piccolo cenno vorrei darvelo c'è una funzione estremamente importante che è quella chiamata H-H-A-M ovvero Hold and Modify grazie a questa funzione è possibile cambiare la saturazione del colore di pixel che già sono sullo schermo superando così i limiti concessi dai colori che possono essere mostrati esatto ovviamente lo chiamiamo Prosciutto mostrando appunto dei colori in più una gamma di colori in più rispetto al pixel che veniva mostrato in quel momento cosa vuol dire che se te davanti a te per esempio uno schermo un cockpit di un aereo parte dello schermo può rimanere del medesimo colore perché è appunto il cockpit parte dei pixel e parte dello schermo può cambiare colore simulando appunto il movimento questo è fondamentale per determinati giochi o comunque per determinate applicazioni anche applicazioni grafiche come poi andremo a vedere che succede poi succede che finalmente nell'84 il computer il nostro caro la nostra cara Lorraine debutta al CS di Las Vegas è una cosa veramente spettacolare perché comunque c'è una roba per loro incredibile questo debutto perché è una roba che non ci non ci comunque è una cosa molto importante perché che succede a questo punto che loro arrivano al CS di Las Vegas arrivano e grazie a questa cosa della cosa della cosa buffa la cosa molto buffa di questo di questa cosa è che loro per portare per portare la le varie parti di Lorraine che avete visto ed essere sicuri che non si sfracellino nella stiva dell'aereo se le portano con sé e se le portano con sé prenotando dei posti a nome Joe Pillow quindi se le portano accanto Pillow vuol dire cuscino perché loro poi tutte queste parti le avvolgono proprio in mezzo dei cuscini e con delle corde e con delle scocci le tengono imballate e se le tengono accanto mentre volo in aereo al CS di Las Vegas succede che il computer comunque ha un successo incredibile perché non si è mai visto una roba del genere pochi selezionati visitatori dello stand possono vedere le prime le prime le prime presentazioni e la prima presentazione con cui l'amica si presenta appunto una presentazione che sarà fondamentale è questa questa palla in 3d di no 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 aspetta aspetta questa è ancora roba loro questa è ancora roba loro non è ancora roba Commodore questo arriverà arriverà successivamente la cosa interessante è che in questo momento la questa questa demo che vedete è una cosa avveniristica perché per farla veramente sono impazziti sono impazziti veramente per riuscire a produrla non sanno assolutamente come come fare per portarla perché insomma una roba una roba veramente terrificante una sfera all'epoca di queste dimensioni con questa fluidità che aveva anche il sonoro registrato battendo una mazza sulla porta di un garage era veramente una roba incredibile e ancora più incredibile sarà questa demo qua questa demo era anche questa una roba se ci pensate sono tutti riflessi in tempo reale sono cose fatte nell'ottantatré l'ottantatré 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 l'ottat4 anzi prima quindi immaginate abbiamo visto oggi una tech demo del nuovo Unreal Engine ma immaginate cosa non doveva essere per il periodo questo tipo di calcolo delle ombre dei riflessi è una roba folle è una roba folle per quel periodo poi comunque addirittura pensate che quando la prima volta che fanno vedere questa demo la gente pensava che fosse una truffa pensavano che che fosse una roba fatta con una una workstation con un mainframe nascosto collegata per finta allo schermo della miga che ancora era Lorraine quindi potete immaginare il grado di follia che doveva essere vedere una roba del genere nell'ottantatré parliamo già di una grafica 3d cioè per carità è tutto molto vuoto però una roba folle per loro era veramente una roba una roba veramente folle comunque intanto nello stesso momento c'è lo sviluppo del primo kickstart che comunque va avanti in qualche modo c'è comunque una serie di personaggi estremamente interessanti e geniali è giusto secondo me nominare e poi che si occuperanno a vario titolo del punto di tutto ciò che batte nel cuore dell'amica tempo questo che vedete qui più avanti firmare un'amica in mezzo alle torte e in mezzo probabilmente a tanti raduni nerd che si faranno nel corso degli anni e robert j maica che contribuì alla demo che avete appena visto la demo della palla e anche opera sua l'interfaccia iniziale che si amava intuition e poi all'amica os maica poi dopo anche lui confia nello sviluppo della carry links questa è una cosa interessante lui andrà nello sviluppo della carry links un'altra persona fondamentale fondamentale per lo sviluppo dell'amica è anche la donna che ha creato tutte le icone e il design tutte le icone e soprattutto la famigerata mano che all'inizio del workbench del kickstart che ti invita a inserire il disco che appunto Cheryl Knowles che è la prima artista a lavorare sull'amica mentre la persona qui che vedete con questa area ad un po da spazio 1999 è Carl Sassenrath che si occupa del kernel e si occupa il responsabile delle capacità multitasking dell'amica e insomma lui si occupa di tutta questa parte qua anche perché l'amica quando poi uscirà avrà appunto questa cosa incredibile delle capacità multitasking che è una roba fuori di melone per l'epoca una roba veramente veramente incredibile detto questo succede però che comunque siamo pur sempre nell'83 siamo pur sempre in un periodo insomma molto complicato perché mentre questi due signori che sono Spielberg e lo sviluppatore del gioco di E.T. si stringono la mano comunque nell'83 succede che c'è questa enorme crisi quindi un enorme crisi che si porta dietro non soltanto la Tari ma anche tutto un indotto e in questo indotto ci sono tutti i produttori di cartucce e tutti i produttori di hardware di questa roba di che si occupa della 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 Tari e succede a questo punto che l'amica è costretta a struncare a tagliare il ramo che si occupa delle terze parti minor minor è costretto in questo momento a impegnarsi veramente pure le mutande pure le domande per riuscire a portare avanti il progetto e anche perché voglio dire per fortuna stava lavorando su un pc su un computer perché se stesse se fosse messo a lavorare su una console sarebbe andata malissimo perché da quel momento nessun investitore è più interessato alle console non lo sarà fin dopo la nintendo perché le console nell'83 in poi puzzano di morto se le vai a vendere la gente ti ride dietro i pc diversi dal computer invece ancora vanno perché comunque c'è il commodore 64 c'è l'apple 2 addirittura in quel periodo steve jobs accarezza l'idea di comprare la miga però per lui diventerà un sistema troppo complesso e quindi non decide di no decide a questo punto non non lo fa non lo fa il problema è che il problema è che la situazione comunque è difficile perché tutti gli sforzi fatti fino adesso rischiano di andare vani perché se non si trova se minor non trova i soldi necessari per andare avanti la situazione e la situazione si fa grama la situazione si fa veramente molto molto complicata e quindi che succede succede tutta una serie di di scambi perché comunque minor e morse bussano a varie porte bussano la porta di sony bussano la porta di silicon graphics bussano la porta di urette packard e anche ai responsabili del casino perché vanno anche dall'atari che quel momento stava appunto cercando di rialzarsi puntando sulla linea dei pc e di fare cose finalmente con lo school chipset motorola atari inizialmente è interessata perché comunque mette sul piatto un prestito da 500 mila dollari per la produzione dei chip della miga però lo fa interessandosi soprattutto al chip e chiedendo l'esclusiva per un anno intero l'idea non è molto 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 interessante per per minor e morse però intanto i soldi se li prendono che magari una prima parte soldi gli arriva a quel punto però amiga va a bussare alla porta della commodore ed è qui che è giusto per un attimo una piccola parentesi perché le cose si fanno aziendalmente complesse questo signore che vedete qua con questa faccia così felice è uno degli squali più grandi del settore dei videogiochi è un personaggio discutibile se vogliamo però diciamo è uno veramente era veramente un mastino lui si chiama jack tramiel ed è lo spietato capo della commodore uno che pur di chiudere un affare pur di vincere è disposto veramente a tutto ed è in parte colpa anche sua se il settore è crollato perché negli anni in cui comunque l'atari va a maluccio va anche perché commodore vendeva a quasi sotto costo pur di vendere i computer cioè flash face una guerra satanica satanica veramente a tutti gli avversari tramiel è sempre stato uno che i soldi li ha fatti ma l'ha fatti facendosi odiare e in quel periodo tramiel sta passando dalla commodore alla miga perché ha dei grassissimi dissapori con il consiglio di amministrazione in quel momento in cui il periodo ha fondato la tramel non tramile tramel per evitare che scrivessero male tramel technology però non vede loro tornare in pista quindi cosa fa prende della warner che non vedeva l'ora di venderla si prende l'atari e la sottopone a una serie di ristrutturazioni direi violente veramente cioè taglia tutto taglia quello che può tagliare stronca qualunque tipo di cosa taglia giochi manda via persone riduce veramente il personale all'osso e comunque cerca di lavorare al computer il meno costosi possibile tramel si trova in mezzo a questa diatriba perché comunque in quel momento lui capisce intuisce che l'amica è interessante e quindi cerca in tutti i modi di prendersela per sé cercando di fare la cosa con offerta con offerta a ribasso lui comunque a un certo punto si rende anche conto di una cosa si rende conto che appena arriva e vede un po le carte che atari ha prestato dei soldi ha prestato dei soldi si frega le mani perché dice adesso io mi prendo l'amica un tozzo e ne faccio quello che voglio io gli fa un'offerta bassissima tipo 98 centesimi di dollaro d'azione che fa incazzare un'offerta che fa veramente arrabbiare veramente uno sputo sulle potenzialità del computer che piaceva voglio dire il computer stava stava piacendo a chi lo aveva visto è rimasto entusiasta e comprare a quella cifra una roba del computer più avanzato del momento viene visto veramente come un insulto quindi amica vola subito dalla commodore che pur di fare un dispetto al suo ex capo e intuendo anche le evidenti potenzialità del computer cosa fa offre invece di 98 centesimi 4,5 dollari d'azione e ci mette sul piatto anche un prestito da un milione di dollari per rientrare tutti i debiti quindi in tutto questo ovviamente parte una causa terrificante perché c'è da una parte tramiel fa causa a commodore perché ti sei messa nel mezzo e non questa cosa non va bene dall'altra parte commodore farà causa tramiel perché gli dice tu quando se ne è andato ti sei portato via dei segreti hardware importanti e questo sarà un danno è un danno in effetti lo sarà perché poco dopo infatti lo vedremo più avanti spunta a tempo di record il computer atari st che voglio dire se non ci fossero state le componenti sgraffignate o comunque portate via da tramiel o dalle persone che poi lavoreranno con tramiel dalla commodore probabilmente non sarebbe uscito sul mercato così velocemente comunque messe da parte tutte queste baghe legali finalmente amiga può concludere il suo sviluppo con calma la sede di los gatos viene ampliata gli vengono date tutto l'hardware necessario per fare una roba fighissima il sistema operativo che all'epoca si chiamava chaos commodore amiga operating system va avanti come avete visto insomma con le persone che vi ho fatto vedere prima insomma tutti felici le cose stanno andando alla grande no e si arriva finalmente si arriva a il benedetto bene la benedetta presentazione dopo 11 mesi dall'acquisizione di commodore della amiga il 23 luglio del 1985 la amiga viene svelato durante questa presentazione incredibile fatta veramente in modo sontuoso a cui vengono invitati tutte le persone che hanno lavorato all'amica vengono presentate tutto viene presentato appunto con questa cosa avveniristica per l'epoca perché si punta tantissimo su ovviamente sulle capacità visive e grafiche della dell'amica quindi cosa si fa si mette è warhol che crea e di colora una immagine digitalizzata di debbie harry ovvero blondi una delle più grandi artisti dell'epoca oggi avreste fatto una cosa simile penso non lo so immaginate voglio dire babansky force bansky con con lady gaga forse to una roba così diciamo una roba così ma secondo me warhol era ancora sopra era ancora sopra fatto sta che c'è un retroscena interessante a questa scena questa storia perché c'è un motivo se in quel momento nella insala tutti gli sviluppatori sono aggrappate alle loro sedie e sono anche un po in silenzio perché il programma in questo usando in quel momento warhol veniva definito un po prei paint prei vuol dire preghiera perché in quel momento la maggior parte delle cose funzionavano ce n'era una però che non funzionava molto bene ed è il riempimento quello no sai quando se clicchi su un colore riempimi di colore tutta questa zona ecco ed è proprio la funzione su cui warhol spinge di più perché riempie varie zone di colore da tutte queste queste ampie zone di colore e tutti gli sviluppatori se la stanno facendo sotto se la stanno facendo sotto ma per fortuna non crasha non crasha e quindi la presentazione è un successo qui vediamo infatti ci sono le prime le prime immagini queste sono proprio il primo primi riviste specializzate dell'epoca che si presenta appunto vedete inside commodore's new amiga the long wait is over vedete finalmente la come l'attesa è finita il l'amiga di commodore è arrivato e combina la potenza multitasking di un mini computer il colore di una design station lo stereo di un sintetizzatore molto di più e in effetti la gente è molto impressionata è veramente molto impressionata da ciò che sta facendo l'amiga perché perché è fighissimo onestamente sto computer cioè è veramente una roba potente è veramente una roba molto potente però c'è un problema che nessuno sa bene cosa farne cioè non stanno bene veramente dice sì ok questo è fighissimo è molto figo però le cose sono entusiaste però è talmente avanti l'amiga in quel periodo che va oltre lo spettro dell'immaginazione dell'utente medio si fanno delle cose che magari sarebbero ancora attuali ancora oggi però in quel momento non riescono a capirne le potenzialità e questa è una cosa abbastanza folle se ci pensate però fatto sta che l'amiga arriva su di scaffale a 1495 dollari per la versione con 512k di memoria e 1295 per quella con 256k quindi della metà a questa cifra considerate che all'epoca andava aggiunto anche un monitor che sarebbe costato intorno ai 300 dollari quindi la cifra minima per avere un'amica all'epoca era di 1595 dollari che cifra dell'epoca quindi considerate ora io non voglio stare a far calcoli con l'inflazione però penso che un po' a spanne si può dire che si parla di secondo me 6.000 7.000 euro forse non so magari sbaglio magari ci sono dei siti che possono darvi un calcolo più preciso ma secondo me parliamo veramente una cifra alta più di quanto oggi pagheresti probabilmente un pc in master race parliamo appunto del 1800 1985 quindi sono cifre abbastanza alte il problema è anche un altro il problema è che l'amiga va davanti insomma arriva sugli scaffali ma ci arriva purtroppo azzoppato dallo staff ex staff commodore che lavora per Atari e che come vedete ha creato un altro sistema molto interessante che è l'Atari 520ST che costa molto molto meno perché ora qui vedete il prezzo in lire non so in questa pubblicità quando esattamente a quando risale però quando esce quando esce più o meno sul mercato l'Atari 520ST ci arriva costando 799 dollari con lo schermo incluso nella versione monocromatica e 999 dollari in quello con lo schermo a colori quindi costava di fatto praticamente quasi 600 700 800 dollari meno quindi immaginate quanto poteva costare se all'epoca si parlava quindi di un computer che ti sarebbe costato 3700 dollari circa contro un computer che te ne sarebbe costate meno molto meno tipo anche sui 1000 dollari adesso quindi immaginate quindi l'Atari è potente però soffre un po' la legge che è la legge diciamo del Game Boy cioè il prodotto più piccolo il prodotto meno caro anche meno potente però che permette alle persone che magari vorrebbero lo vorrebbero un'Amiga 520 un'Amiga 1000 anche si chiamava soltanto Amiga vorrebbero un'Amiga ma i soldi non ce l'hanno allora si prendono la Atari ST che comunque i giochi ce l'ha che comunque perché ancora non si parla di giochi ecco comunque è pur sempre un computer interessante costa meno c'è lo schermo in più ma perché dovrei dovrei spendere tutti quei soldi per comprare monica mi compra 3ST ti hai detto questo la cosa interessante che aiuterà in quel periodo un po' l'Amiga che soffre di un grosso problema di posizionamento sarà Electronic Arts Electronic Arts in quegli anni era a fianco di Amiga quello che vedete qua ed è ancora parte di Electronic Arts è Trip Hawkins Trip Hawkins e tutta l'Electronic Arts in quel periodo hanno alcuni alcuni prototipi Amiga in anticipo lo dicevo in anticipo gli viene detto per favore create qualcosa che possa piacere insomma al pubblico Amiga un sacco di applicazioni e loro comunque hanno quindi modo di mettere in mano sull'hardware in maniera adeguata quella che vedete in questo che vedete qua è proprio una pubblicità che veniva che si accompagnava alle prime riviste Amiga e alle prime recensioni dell'Amiga proprio per far vedere guardate abbiamo comunque un supporto di giochi io vedo per esempio Marble Madness c'è anche un gioco di Larry Bird di Basket insomma ci sono dei titoli interessanti quindi cosa succede? succede che Electronic Arts riesce a creare quella che forse è la prima vera killer application di Amiga e non parliamo di un gioco ma parliamo di un programma di grafica parliamo di Deluxe Paint Deluxe Paint sarà un programma fondamentale perché l'Amiga è capace di mostrare 32 colori contemporaneamente in bassa risoluzione 16 in alta e questo porta la creazione appunto di questa prima killer application questo renderà l'Amiga la macchina di riferimento per la grafica in quegli anni la renderà la macchina che dovevi avere se volevi fare grafica di alto livello se volevi fare grafica anche magari per come dire i film i primi effetti speciali così Deluxe Paint appunto che questa maschera di Susan Kamen diventerà sia il simbolo Deluxe Paint ma anche se vogliamo il simbolo delle potenzialità dell'Amiga io vi ricordo che siamo nell'85 86 e una roba così onestamente non si era mai vista inoltre Deluxe Paint ha un altro merito perché crea il formato IFF ovvero Imola Firenze Firenze che è un formato che permette di trasferire file e le relative informazioni tra più programmi questo vale sia per la grafica sia per quanto riguarda il sonoro ad esempio quindi fondamentalmente se hai un programma multimediale tu puoi creare file IFF sonori e visivi e questi vengono interpretati assieme senza grandi problemi quindi possono essere combinati e poi crea anche un altro strumento che è appunto Brush il Brush che come potete immaginare sarà fondamentale per molti artisti ma sarà anche fondamentale per un gioco in particolare perché un bel giorno qualcuno sta creando una avventura grafica esatto un 3D file format qualcuno sta creando un'avventura grafica in cui più avanti verrà creata e qui qualcuno sta creando un personaggio per quell'avventura grafica quel personaggio non ha ancora un nome quindi viene chiamato semplicemente Guy e l'estensione del file è Guy.Brush a un certo punto non sanno che nome dare a questo personaggio e quindi decidono di chiamarlo Guy Brush e quel personaggio sarà appunto Guy Brush 3 di Monkey Island questa è una piccola nota interessantissima sullo sviluppo dell'Amiga però se ci pensate io fino a questo momento non ho parlato di giochi non ho parlato di giochi perché l'Amiga sarebbe veramente in grado di sbagliare la concorrenza però non spingono sui giochi e questa è una cosa incredibile vedete i giochi per Amiga del periodo sono questi qui parliamo di Marble Madness ancora ancora era figo perché ti permetteva un movimento veramente fluido con questi ambienti tridimensionali Marble Madness era figo però ecco per esempio questo gioco che vedete che copia spudolatamente Donkey Kong si chiama Monkey Business ed è pare almeno secondo Amiga World che ricevette una copia la prima copia ricevette la prima copia di quello che dovrebbe essere il primo gioco commercializzato su Amiga che era appunto questo Monkey Business quindi ecco la cosa interessante appunto è che i giochi non sono la spinta in questo momento di Amiga Amiga non viene presentato come una macchina per giocare e se ci pensate era folle però però non meno così tanto folle perché alla fine quello che loro interessa non è farsi vedere come una macchina per giocare perché l'identità dell'Amiga in quel periodo ruota attorno ad altri due macchine che vuole imitare l'Apple 2 e i computer IBM compatibili i videogiochi vengono ancora visti come qualcosa per cui la Commodore è il Commodore 64 e va bene lì sì certo ci sono alcuni giochi alcuni giochi che sono fondamentalmente il porting di roba per Atari ST fatti un pochino meglio ma nemmeno troppo però i giochi sono cose frivole sono cose sbagliate ma sì va bene ci puoi giocare però noi vogliamo vendere l'Amiga in un altro modo vogliamo giocare al tavolo di Apple e IBM e questo fondamentalmente sarà il grande errore perché comunque nell'85 il mondo era pronto per dei giochi più belli era comunque pronto a un salto di generazione anche da questo punto di vista adesso ho messo anche delle pubblicità perché il problema grosso è che facevano anche delle pubblicità orribili ci sono alcune pubblicità dell'Amiga che erano veramente brutte brutte ma brutte aiutate ma di brutte ed è una cosa veramente ve ne faccio vedere una che è una delle prime credo che sono state fatte che questo era il modo in cui veniva venduto l'Amiga lascio a voi l'idea cioè non si vede un gioco per tutto il tempo si parla di lavoro di laurea si parla di vedi c'è la palla la bambina che manca poco se la piglia in faccia però questo è l'Amiga in quel momento questo è l'Amiga ed è una cosa assurda se ci pensate perché l'Amiga in quel periodo venne venduto in questo modo il risultato finale di questa situazione oltretutto c'è anche un grosso problema che in quel momento l'Amiga e la Commodore sono dissanguate cioè non hanno soldi per fare promozione quindi hanno questo computer incredibile hanno questa macchina potentissima ma non hanno i soldi per venderla mentre l'Atari ce l'ha e costa anche meno e purtroppo è un'azienda incapace di comunicare la potenza della sua macchina ed è incredibile questo ci pensiamo oggi fatto sta che ne vendono 35.000 unità nell'85 e questo porterà porterà Commodore e l'Amiga a un grosso problema nell'86 salteranno il CES CES che avevano praticamente visto nascere e è un po' come se oggi Microsoft e Sony non andassero all'E3 non per scelta personale ma perché non hanno i soldi in quel momento Commodore non ha modo di rientrare degli soldi prestati dalle banche banche che non gli danno più nulla banche che sono rotte le scatole banche che contavano nel fatto che la gente insomma vendesse qualcosa che quella Amiga vendesse e questo porterà a un'altra enorme frattura fra la dirigenza e e gli sviluppatori una frattura che come vedrete verrà mostrata in questa cosa c'è un c'è un easter egg che ora vedrete lassù in alto nella workbench release nella barra bianca comparirà We Made Amiga dei fact it up se tu fai un certo tipo di note di combinazione di tasti sul kickstart 1.3 appare la scritta con alcune combinazioni compaiono i nomi delle persone che hanno sviluppato tutto con questa combinazione parte la scritta We Made Amiga dei fact it up abbiamo fatto l'amiga e loro l'hanno fottuto l'hanno sprecato l'hanno distrutto ed è una cosa veramente brutta perché comunque la situazione è tosta perché boh non va non va non va la cosa assurda è che comunque quando si accorgono di questo errore di questa cosa qua la dirigenza ritira Yamiga per cambiare il software il kickstart rallentando di tre mesi la distribuzione inglese quindi in un'altra mossa a cazzo fondamentalmente e questo porterà l'amiga inizialmente a stare messo molto male però nel frattempo la situazione un po' cambia perché comunque nell'86 arriva questa bella faccia qua questo signore che si chiama Thomas Rattigan Rattigan fino a quel momento è uno di quelli che cambia molte aziende l'ultima che ha fatto e ha passato prima di prodare la Commodore è la Pepsi è una cosa interessante perché comunque Rattigan da subito vede i conti e avvia un progressivo ristrutturazione aziendale però non è una ristrutturazione sbagliata è una ristrutturazione sensata è una ristrutturazione che torna all'origine all'idea che aveva miner un computer più potente per le aziende e un computer un po' meno potente per le persone più insomma per le persone normali per chi vuole un computer così questo in qualche modo aiuterà ovviamente a cambiare comunque parte subito il progetto di creare un di creare un nuovo computer molto alto che si chiamerà appunto Amiga 2000 e crearne uno più piccolo che si chiamerà come potete immaginare Amiga 500 il progetto dell'Amiga 500 viene affidato a George Robbins che già da tempo caldeggiava queste ipotesi quest'idea di fare un computer più piccolo magari prendendo l'hardware dell'Amiga 1000 rimettendolo un pochino in sesto cambiando alcune cose migliorandone alcune togliendone altre insomma sono anche passati 3 o 4 anni quindi diciamo che l'Amiga 500 è una sorta di Amiga 1000 un po' rivisto un po' come se fosse non lo so una playstation mini non neanche una playstation mini diciamo quando le console moderne si fa la versione più compatta che costa un po' meno l'hardware costa meno e comunque la stessa roba insomma l'idea funzionale perché comunque sembra sembra interessante perché intanto viene fuori l'Amiga 2000 che nasce con quella che vedete qui è il corpo del mai della defunta Commodore 900 Workstation che non aveva mai visto la luce quindi riprendono le plastiche là ci schiaffano sopra l'etichetta Amiga 2000 e lo fanno uscire al costo di 2395 dollari dell'epoca aveva ben un mega di RAM e il monitor stavolta per fortuna era incluso ed era chiaramente un computer pensato per per prodotti per un certo tipo di come dire di aziende era una roba di alto livello era una roba di alto livello comunque l'Amiga 2000 venne pensate in un altro in questo modo dall'altra parte venne per un tutto creato questo computer più economico l'idea è quella appunto di creare una roba più più piccola c'è un piccolo problema però che il buon Rattigan non si sa come mai proprio in quel periodo viene fatto fuori che è una roba che se ci pensi fa assurda è assurda perché ancora prima che esca il computer viene fatto fuori perché stava sulle palle al ai capi del momento non so perché forse i tagli forse queste cose qua ha fatto stack e sta sulle palle e quindi lo mandano via non stava neanche troppo simpatico al team dello Sgathos perché aveva fatto tanti tagli fatto sta che perché in quel momento la produzione di Amiga si sposta via via sempre di più dal Texas dallo Sgathos a un'azienda più piccola un'azienda meno costosa e soprattutto si sposta in Germania e in Inghilterra fatto sta che la situazione è un po' incasinata lo fanno andare via lo fanno andare via e lui riuscirà a beccarsi poi dopo negli anni successivi dopo un po' di cause tipo 9 milioni di dollari per per licenziamento ingiusto fate voi comunque la cosa interessata è che il problema è che l'Atari nel momento non si ferma perché ha fatto uscire anche lei un altro computer più piccolo si chiama il 520 STF-M e anticipa nuovamente la Miga comunque in un modo o in un altro la Miga 500 viene lanciato nel luglio dell'87 arriva ufficialmente sugli scaffali a ottobre al prezzo di 699 dollari pronto per lo scontro con l'Atari arriva comunque l'Atari anche l'Atari 2000 appunto Maratigan che in quel momento ha comunque portato l'azienda a un plus di 28 milioni di dollari viene appunto licenziato in questa mossa totalmente folle assurda stupida non si capisce perché l'abbiano fatto chissà come sarebbe stata diversa il mondo della Miga se avessero continuato questa storia però fatto sta che viene licenziato però la Miga comunque esce quello che vedete appunto il progetto si chiamava Rock Lobster dal nome di una famosa canzone che magari voi avrete sentito probabilmente anche con i Griffin fatto sta che il progetto Rock Lobster va avanti e funziona finalmente la Miga sembra essere sul binario giusto perché anche senza il conducente in qualche maniera ce la fanno perché in quel momento Rattigan non c'è arriva un nuovo personaggio che poi impareremo a odiare che poi vi dirò anche meglio la sua storia per il momento lo lasciamo un attimo da parte fatto sta che funziona funziona tutto incredibilmente e la resa grafica della Miga 500 è anni avanti veramente molto avanti rispetto agli altri finalmente si parla anche di giochi si parla anche di giochi perché tra i titoli che nell'87 renderanno spettacolare la Miga 500 c'è per esempio Defender of the Crown e Defender of the Crown rappresenta in questo momento diciamo la seconda parte di questa chiacchierata che è un po' più tranquilla ci mettiamo un po' a giocare Defender of the Crown per mostrarvi cosa non era in quel periodo tanto era un gioco in cui io facevo schifo e faccio ancora schifo tuttora perché ci stavo giocando oggi e non era assolutamente in grado di giocarci fatto sta però che Defender of the Crown rappresenta la bellezza se vogliamo della Miga perché anzi facciamo così ve lo faccio vedere in maniera molto più facile in questo modo mostrando così perché comunque vale la pena vederlo in questo modo un attimo solo intanto lo mettiamo qua eccolo qua ora lo prepariamo con i potenti mezzi offerti dal dal mio programma ecco qua Defender of the Crown in questo momento rappresenta il top a livello visivo per quanto riguarda la Miga 500 è un computer è un gioco incredibile che ha degli effetti che la gente si sogna la notte la musica la musica è spettacolare ovviamente passiamo un attimo questa la musica è incredibile ed è fondamentalmente anche la pietra miliare su cui si svilupperà se vogliamo l'idea di fare giochi della cinema perché comunque questo tipo di struttura dei giochi fino a quel momento non l'aveva vista nessuno perché Defender of the Crown di base è una specie di risico se vogliamo in cui possiamo scegliere questi quattro personaggi e conquistare i vari territori abbastanza semplice no Defender of the Crown non è una roba non è una roba estremamente complessa vedete c'è sono le leggi c'è Robin Hood che ti dice che devi vincere il regno devi riunire i vari regni però ecco però era spettacolare perché una roba così una roba come questa ho messo un attimo pausa non si era vista guardate il mare che si muove guardate com'è la palette di colori è ancora attualissima ancora assolutamente utilizzabile vedete fondamentalmente Defender of the Crown è un grande risico in cui puoi che ne so appunto tenere saltare fare un torneo puoi fare cercare di conquistare un castello o dei territori o fare ride su un castello costruire la tua armata o leggere la mappa cioè ovvero vedere i vari terreni quanto rendono ogni settimana però ecco questa è una cosa che funziona funziona perfettamente perché comunque il gioco ha tante cose queste piccole cose che funzionano alcune più alcune meglio alcune peggio devo dire io trovo che sia spettacolare il sistema del torneo mentre è abbastanza vedete guardate c'è la grafica così queste erano le immagini che facevano vedere all'epoca per farti vedere la Miga 500 guarda che roba è c'era proprio le comparazioni perché comunque aveva dei colori che gli altri non potevano assolutamente far vedere scusate ho un attimo preso questa parte diciamo meno storica ma più più emozionale più videoludica se vogliamo però ecco questo per esempio è la parte che mi piaceva meno e non ho mai capito come farla funzionare però ho fatto stack in qualche maniera funziona in cui devi fare appunto le varie parti entrare nel castello andare avanti pensate l'ombra cioè voi vedete l'ombra su dietro che si muove quanto doveva essere spettacolare vista nell'87 un'ombra dentro un castello e tu che combatti cioè era bellissima poi ovviamente il gioco aveva secondo me ti ripeto la parte più bella era quella dei tornei perché comunque il combattimento si svolgeva in maniera abbastanza banale cioè c'era delle truppe che si combattevano in tempo reale potete decidere se combattere di più combattere stando fermo oppure scappare tendenzialmente chi aveva più truppe vinceva il trucco era semplicemente ammassare un'armata enorme e cercare di fare il giro e di conquistare i territori possibili però volendo c'erano appunto le parti in cui dovevi andare addosso ai castelli avversari come in questo questo è un altro ride vi piace molto fare i ride vedete ti puoi appunto costruire l'armata andare a beccare i territori che ci sono in giro e c'è soprattutto la parte più bella vediamo se ce la fa vedere questa immagine era bellissima tutte le volte quando pensavi che le cose fossero andate bene improvvisamente arrivava l'armata dei cosi dei normanni e ti fotteva metà dei soldi che potevi accumulare in quel mese in quel turno ma la parte più bella se la fa non la fa mai perché questo fa solo conquiste solo conquiste eccola qua la parte più bella era senza dubbio questa questa schermata era incredibile questa schermata ha fatto la storia dell'amica guardate la profondità dei colori guardate come sono brillanti guardate già all'epoca come erano voi considerate che in quel periodo questo tipo di di colore non ce l'aveva nessuno erano tutti molto più artificiali più più brillanti non erano così ombreggiati è una roba spettacolare questa perché vista vista ancora oggi ha ancora perfettamente senso questa è la cosa più più importante poi il gioco in sé era bello non bello che potevano piacere però era comunque emozionante comunque e c'era questa parte guardate com'è questa immagine voglio dire io vi prego di soffermarvi un attimo su come è figa quanto è colorata quanti dettagli ci sono in questa nella giostra questa qui cioè è incredibile è bellissimo figuriamoci per un ragazzo che magari proprio in quegli anni conosce questo genere di letteratura è spettacolare e diventa ancora più bella se consideriamo la soggettiva cioè in un'epoca in cui il gioco in soggettiva non era ancora se vogliamo minimamente mainstream sì c'era qualcosa e ci sarà più avanti però qui comunque avevi un primo sprazzo della soggettiva ed è veramente spettacolare questa cosa cioè è veramente veramente bello veramente molto molto bello guardate adesso com'è questa ecco scusate questa scena è puro cinema cioè questo momento col cavallo che sobbalsa con la la lancia che si muove davanti a te e te col mouse che cerchi di puntare sullo scudo dell'altro questo è veramente un momento storico per i videogiochi perché è veramente una roba incredibile poi è chiaro che ho ottenuto una serie di trucchetti però è spettacolare è spettacolare e bellissima veramente e qui purtroppo lui ha perso detto questo ci tenevo a fare questo piccolo escurso su Defender of the Crown che si merita tanto e credo che possiamo dichiarare qua conclusa la prima puntata ma non vi preoccupate perché dell'Amiga c'è ancora tanto da parlare e ne parleremo settimana prossima alla stessa ora sempre alle 21.30 sempre di mercoledì a meno che non ci siano vari casini in cui parleremo della seconda parte quando l'Amiga 500 sembrava andare benissimo e come tutto comunque riuscirà in qualche modo a crollare parleremo anche dei giochi perché magari ne proveremo anche qualcuno perché è impossibile non parlare più dell'Amiga senza parlare dei giochi quindi faremo un'altra parte della storia ma ci dedicheremo anche ai giochi e ovviamente se avete una lista di titoli che vorreste vedere e vogliamo commentare assieme analizzare assieme parliamone su Telegram parliamone su Facebook parliamone con me e magari cerchiamo di fare una piccola lista se ne dovrebbero fare 50 magari facciamone 10 che mi sembra una soluzione più gestibile ecco per perché comunque vedremo la prossima volta vedremo quanto l'Amiga ha dato al mondo dello sviluppo dei videogiochi detto questo io vi ringrazio non eravate tanti ma eravate senza dubbio persone appassionate e questo mi fa assolutamente piacere anch'io andrei adesso a comprare un'Amiga detto questo vi ringrazio se non ci sono delle domande se non ci sono delle richieste particolari altrimenti stiamo qui un altro po' a chiacchierare tanto vedo che Giulia ha commentato adesso quindi se non mi ammazza in effetti anche a me verrebbe voglia di comprare un'Amiga adesso ma ovviamente non so se ha molto senso però una mamma per Amiga vi prego no però ecco di tutte le console che hanno rifatto hanno rifatto il Commodore hanno rifatto il Turbograph hanno rifatto di tutto rifare l'Amiga sarebbe figo è vero che sono dei problemi forse legali con i Kickstarter onestamente l'FS UAE che comunque è un ottimo emulatore funziona molto bene vi dirò quindi nel senso anche questo si può tranquillamente utilizzare per carità però insomma se facessero un'Amiga non sarebbe poi pensata così male un'Amiga Mini un'Amiga Mini ho appena compratto una console non è vero che ho compratto una console non è vero queste sono cose che non è queste sono voci che non sono voci di corridoio non ho comprato nessuna console detto questo io vi saluto per l'esima volta e è ciò dovresti comprarti vedrete 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 poi cosa ho comprato vedrete vedrete appena arriverà penso arriverà settimana prossima io che vi posso dire grazie ancora per tutto vi voglio bene ci vediamo domani mezzogiorno e mezzo rassegna stanca ciao 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 ciao